Sono Laura Antichi, vi presento Storybird Studio per educatori all'indirizzo htdp.storybird.com e che cosa si fa con Storybird Studio? È un'applicazione molto interessante, stupefacente, che mette a disposizione strumenti eccitanti da utilizzare e permette di realizzare narrazioni illustrate per ogni disciplina. Sviluppa competenze estetiche di lettura e di scrittura creativa nei contesti educativi, competenza ai media e alla cittadinanza digitale. Si può dare un feedback agli studenti dopo aver fatto un'assegnazione, e quindi dopo aver dato un compito e monitorare le loro attività da qualsiasi dispositivo tramite il cruscotto dell'educatore. Interessanti le opzioni di acquisto dei libri stampati prodotti dagli studenti. Possibile attivare anche la modalità opzionale di raccolta di fondi per coinvolgere le famiglie e raccogliere dei fondi per utile. Bisogna collegarsi al sito storybird.com e poi si può fare il sign in se si è già registrato, il sign up for free se non si è ancora registrati. Con il sign up for free vedete che ci sono tre opzioni, per l'utente regolare oppure per l'educatore e il teacher oppure per lo student. Ecco, anche gli studenti si registreranno con l'account student. Noi ci registreremo con l'account di docenti. Ecco, io sono già registrata il sito, quindi faccio il sign up, il sign in e come vedete entro in quello che avevo chiamato il cruscotto dell'educatore. Ho la possibilità quindi di rivedere le storie anche degli studenti, di moderare i commenti e quindi sono nella modalità review e ho anche la possibilità di quindi creare una classe che mi viene generata da questo codice creando degli account studenti e mettendo il loro username, il loro first name e il last name. non è richiesta mail, come potete osservare. Ho sempre andando dal menu in alto in parents la possibilità di far partecipare alla classe, ai lavori della classe, gli studenti. Questo è ritenuto molto utile e incoraggiante nei confronti del lavoro degli allievi. Poi ho la possibilità di fare un assignment e quindi dare un compito agli studenti, create an assignment, metterò il nome, la descrizione, aggiungerò media guida per ispirare gli studenti, posso scegliere un'immagine, scegli file e deciderò se usare tutti gli artwork che sono a disposizione, se usare uno specifico artista o uno specifico tag. qui consigliano di dare agli studenti la possibilità di scegliere tutti gli artwork che vengono proposti per sviluppare meglio la creatività e il loro spirito di iniziativa. Poi dovrò decidere se gli studenti dovranno produrre una storia in multicapitoli, in multipagine, il poema, la pagina singola, con una singola immagine, quindi oppure in qualsiasi formato. segnerò anche una data dentro la quale gli studenti dovranno far comparire nella dashboard il loro lavoro, il lavoro che è stato richiesto. Se vado in Fundraisers ho la possibilità di attivare la modalità di raccolta dei fondi. Torno a Studio, andiamo a vedere la Library e qui nella Library ci saranno tutti i book creati. Vado in Create per creare un nuovo book e vedete che ho la possibilità di scegliere tra tutti gli artwork e ad esempio ne scelgo uno. Ok, questo art mi dice se voglio usarlo e adesso ho preso per condividere, eccetera. I use this art. Fora mi chiede per multicapitoli, per un book a immagini, oppure per un poema che sarebbe con una singola immagine. va bene, metto a questo Long Form Book, quindi questo sarà il primo capitolo, qui metterò il titolo del racconto, racconto, eccetera, eccetera. E ha comunque un titolo. Qui ha il titolo del capitolo, che posso mettere, non so, nella notte buia, il primo capitolo. E poi, naturalmente, qui comincerò a scrivere il testo del capitolo. Ok. Come vedete, posso inserire da Insert, posso inserire un'altra immagine, la posso naturalmente, se non mi va, sostituire, come vedete. L'ho trascinata, l'ho sostituita e qui scrivo, vado avanti con la scrittura del racconto. Ecco, queste sono le istruzioni minime per utilizzare, quindi, questo bellissimo strumento che è proprio Storybird. e poi posso salvarlo e uscire, posso pubblicarlo. Ok, save and exit. Ecco che ho salvato il mio racconto che non è pubblicato. Sempre dal menu, poi posso andarlo a pubblicare, posso andare a pubblicare il mio racconto. E, come vedete, vabbè, lo salvo e vi faccio vedere una cosa che, save and exit, voi vedete che ho dei racconti tra i miei non pubblicati e pubblicati. Il recente, questo che avevo pubblicato, il messaggio di benvenuto, che vi ho mandato proprio per vedere, per poter capire come poi è il risultato dell'utilizzo di questo strumento. e posso ritornare una volta che l'ho pubblicato e posso ritornare una volta che l'ho pubblicato a editare i dettagli, oppure posso cancellare la storia. E questo era l'ebook che avevo creato proprio per darvi il benvenuto. Quando l'avete pubblicato, potete poi, come vedete, condividerlo via mail con il link e vi dà anche il codice embed da inserire nei vostri social network, nei vostri siti. Vi dice, se lo volete, piccolo oppure grande, cioè vi dà anche la possibilità di scegliere il formato e poi potete condividerlo anche nei social, nella maggior parte dei social. Ecco, credo che queste informazioni abbassino per farvi capire quanto è allettante questa applicazione. Buonasera!